E dopo le perdite della scorsa puntata, Snake propose un piano di vendetta. Il piano consisteva nell'attirare Mr. T. Ma come si fa ad attirare Mr. T e tutti i suoi scagnozzi? Molto semplicemente organizzando una festa all'interno della base. In più, utilizzando l'account di PewDiePie, ormai defunto, si potevano mandare messaggi a tutti gli youtuber e a tutta la community di YouTube. E infatti, da lì in poi, molti youtuber rinomati iniziarono a far propaganda di questa fantastica festa. Sono super contento perché sono stato invitato a una festa organizzata dal team di YouTube, ma la cosa più figa è che potete partecipare anche voi, quindi mi raccomando fate swipe up per info e per come prenotare il biglietto, restate sintonizzati perché vi informerò sull'evento e mi raccomando cercate di essere molti perché ci sarà da divertirsi. Però, come sappiamo, non tutto va sempre nei versi giusti. Non siete in lista? Ma come non siamo in lista? Mi spiace, non potete entrare. Non poco faccio, c'è il mio metodo infallibile. E che metodo vorresti usare? Ma sicco, la volta che ti chiedevo l'euro... Non c'è l'euro? No, dai, snake, non inizia... No, dai, 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 dai vaiaddio un attimo dai beh ok, va bene, tieni , basta ok sto dita no no capo sono entrati proceda con la colazione e 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 No, no, no! No, no, no! E va bene, entra! Madonna mia, entra! Va bene, entra! Questi qua proprio! Fermi, fermi, fermi! Vieni, vieni, ti abbiamo portato un po' di drape! Bevi, bevi! Ma tu sei lo hai ragazzo! Ma tu sei lo hai ragazzo! Vieni, vieni, vieni! Ciao! a few moments later 3 Polos 3 Polos 3 Polos ma che che cazzo è successo ci hanno drogato hanno preso il venditore ragazzi ho paura